Sono io che parlo Quanto c'è scritto? Aspetta salta sul posto Aloha Park! Facciamo la Aloha Park Oh no! Is this... Is this lo stesso livello dell'altro gioco ma più bello? Questa è la sua costruzione Bello Ah beh lì Mi sa che è un percorso molto incertoso Beh di quel giro l'hanno fatto perchè hanno capito che il livello 4 giocchi del primo giampino era piaciuto e quindi l'hanno rifatto e l'ho fatto grande Proprio capito Proprio capito Non è più da questo livello Cos'è qui? E' una macchinina... E' una macchinina fiera E' una macchinina fiera E' una macchinina fiera E' il bello della diretta questa Vabbè era troppo tempo che non stava accadendo nulla Allora... E' una macchinina fiera E' una macchinina fiera E' una macchinina fiera No va bene Packeman... Anche packeman... Anche packeman Packeman serve da continuare Vai 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 Cos'è? Crash il primo non warp Smadonne Ah già è vero C'è da attaccare il controller Configurazione Controller Generic USB con joystick Applica ok Ti va bene ora? Sta registrando OBS? Sì Ho paura di perdermi ignorantate come questa Cioè è un'ora e venti che noi siamo venuti qui Però io ho paura di andare via Mi potrei perdere le perle ignoranza Tutto fa strano Sto facendo camminare Se ti piace andare lì Ma non è vero 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 Fai tutto il percorso Invece Salutarlo Mi fa salire Non mi fa scendere No ti fa scendere Ti fa scendere La macchina mi sa che ti fa tanto Se ti fai lei Noi facciamo questo Solo per te Solo per te Com'è umano lei La gioia di vivere Il percorano E' una scacchiera Invece una scacchiera un gatto pesci questi suoi anche qualche parte c'è di tappeti volante come perché sei papa perché hai saltato game over tant'era il primo mondo giusto prima di partire fa vedere un attimo come siamo illuminati dal suo bs no siamo illuminati bene se fossimo molto più bui intanto lo fai serio io vado ad assentarlo ciao gente addio mi lascio nelle mani di corattolo si supererà tutti si supererà Grazie a tutti! 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 Che cosa bella... No, adesso ci sta venendo il momento di... dove non parliamo più... Ci è preso il momentino di morte dove non parliamo più perché siamo in troppa botta di... Così? Fammi fare un salva incredibile... 5, 6... Per far vedere... No, questa ve la spiego un attimo, signori... Praticamente è successo... Così? E' un attimo... 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 Lue dico che abbia trovato... Non ci riesce prenderlo... Sperma... E' fermati li... Guardate a tutto... E' un attimo... Vabbè... Vieni... E' qua... Ecco... Eh... Vieni... Voglio vedere se... Se passerò... Vedo veneto... Com切ro detto... E' un attimo... Personalmente... Ma' un attimo... Ma.. Ma le parte... Ma le cari... ma non ho capito yummy vedi? vuoi davvero provarla così? vuoi davvero provare così? porca puttata ci staremo la vita su questo fammi accendere la luce qua almeno ok aspetta è lì? eh cazzo ok avrà ripreso un po' di volore è difficile molto difficile è tostino va davvero tanto cioè noi ci siamo fatti non vedo prima l'hai preso intanto ci hai fatto un cliccato prima a caso si blind secondo me secondo me beh possiamo andare a prendere gli altri ora moriremo come cretini ma quanto è brutto il suono di robot che muore in questo giro proprio sì il robotino ha un nome se non lo sai viene detto proprio nel primo gioco viene detto proprio all'inizio vabbè lasciamocelo per l'ultimo quello vediamo quella cosa sembra molto bella para papapara papapara bello c'è un cazzo non si vede non si vede una mazza robita persino tieni buggati nooo tieni buggati le texture che mancano non si vede 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 tieni c'è lo per ultimo E' passato e tu non hai preso il capo. Uff! Se riesce sto sempre fermando un punto, prima o poi dovresti riuscire a prenderlo. Bene, ti basta se capi il tuo finale al sole. Ora! Che fastidio! Oh! Ora ti prego, no, no. Falla safe, ti prego. Fammi un favore, falla safe, se no davvero il tuo gioco non lo finiamo. Ora, proviamo ad andare in line, invece, vediamo che c'è. Pinguini! Ma cos'è quella fare un tex tu che mato? Cos'è quella cosa un tex tu che mato? Wow! Wow! Sono due mani che fanno lo shuffle delle carte. Ce n'è uno sulla destra, ho visto. Cazzo, è l'affare lì ti fa andare. Dove saranno gli altri? Dove cazzo saranno? Un arancione però mi sa che la ex... Ma non c'è più. C'è un arancione che mi sa che la ex... Vado qui per sicurezza. Ehm... Forse non viene tirata un attimino l'aura. Questa è una cosa. Questa è una cosa. Comunque... No, aspetta, aspetta, non entri da sopra. Scendi, scendi. Scendi, scendi. Entri da... Fai il giro e entri di là. No. 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 Actually stuck. Ah, ok. Era oggi per i fattori fan proprio. Oh, ve lo vedo. Ma l'ho visto? È di me... è nella torre, vedo. È là in cima. E' facilissimo E' facilissimo E' facilissimo Uff E' facilissimo Ah Puoi entrare dai buff Guarda, guarda, guarda Ah, è difficilissimo però Più che altro se rimani lì a farti ammazzare E' un po' più complicato Cioè, ma manca 8 minuti A cose normali noi questo livello avrebbero già fatto Se non fosse stronzo In un punto dove non è Ah Beh, aspetta No, non è morto Semplicemente aveva perso il contatto nel muratore Aveva perso il contatto nel muratore Come è se c'è altri video? Mi sa di no, sai Mi sa che devi essere bravo te le fai You have to get good Devi get goodare Dov'è il cazzo? Oh One more time Cos'è successo? Perchè siamo stati Perchè siamo stati sparati Perchè siamo stati sparati Nell'obbligo Tu muori Tu muori I giochi ha fatto Guardi i giochi ha fatto un favore ammazzate Se lo sai Prendiamolo lì che intanto è facile Prendiamolo la che ci mancava Ci mancava Ci mancava Muori Ma questo è il primo o il secondo livello? Il secondo Mi sa che è il primo Secondo Secondo, sì secondo Do cazzo Scalo Spendiamoci le scale Ah no c'è non cazzo Non mi metto Non mi metto Dove cazzo vorrei No siamo in una zona del tutto nuovo Prova a essere assunse Vai ci si angoda Aspetta aspetta Prova a sparare Full health Ok allora puoi entrare dentro i palazzi Soltanto devi sparare Non mi stavo sbagliando Nei palazzi puoi entrarci E' bella che noi lo abbiamo alla fine Si si Ando in cima Dice il canone Non toccarle Non toccarle Ciao Allora Andiamo a 6 milioni Allora qui c'è i cosi e dei brutti Volendo possiamo andare Si La Torre Lattis è andata Sì Lì non ci arrivo Questa è una persona Si? Eh quel tipo Molto meglio Sì da qui Prova E fa fanculo No Non era la Torre giusta Fanculo Non era la Torre giusta Era troppo bello Era troppo bello per essere vero Però c'è affogato Oh porca puttana Vabbè Io scommetto Secondo me non lo finiamo a questo giro Al massimo realizziamo l'ultimo mondo Ma non lo finiamo più No perché altro è che poi ad una certa ora bisogna mangiare Si bene Ad una certa ora bisogna cenare Ah ma se vai avanti non segui il moto del legno No No E' l'assaggio Quelli che così Eh ma tanto ci mancano altri gre Quanto facciamo questo Uno sappiamo dov'è Quell'altro Un'altra 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 Voglio il peluccio di un muro adesso Adesso voglio il peluccio di un muro Ok Ora cerchiamo un attimo di capire la situazione com'è Abbiamo otto minuti e mezzo E ne abbiamo presi due Uno è in una torre Uno è in una torre Uno è in una torre Va a capire dov'è perché l'unica torre che abbiamo trovato non è quella giusta E un altro? Uno c'era per il cannone no? Uno è in una torre Un'altra Mi sa' che il quarto non l'abbiamo mai trovato No Un certo nemmeno Eh Senti, io intanto vado qua Si Sto spazzino Belli pinguini Loro possono camminare sul blu Là invece Schifo tutto perché loro sono edifici di me vado qui il cannone adesso si è lo stesso sono stra perso ha capito un altro come ok si sappiamo dove sono tutti una nella torre e grazie del coso che girava c'è un coso e girava dalla sua posto della mappa dovrebbe arrivare qualcosa si invece ecco mi dice l'italia ora aspetta uno è là uno è quello di quell'altro come della torre ci basta dire dov'è la torre e sono a posto ok si ho capito dov'è la torre intanto va a prender quello ora torna indietro da dove sei venuto come in là il cannonelli la torre l'abbiamo trovata è meno la giù anche se non la vedi la torre è là è là è là vedi c'è già che cosa gira si infatti vai lì salve salve è lì la torre vai più avanti questa mi sta piacendo un po' di più salta lì e poi su quello laggiù su quello là è più vicino ti prego vai io non guardo mi è bastato non guardare non morire a merda non morire a merda ti prego piuttosto vai in un posto sicuro poi l'uscita la trovi non prendere quel cannone l'ultima volta che l'hai preso è finita malissimo facciamola più lunga tanto abbiamo 5 minuti in 5 minuti l'uscita la troviamo non fare salti azzardati in 5 minuti la troviamo l'uscita si si c'è un cos'è hanno fatto l'uscita lampeggia molto comodo ok aspetta falla un attimino più lunga falla più lunga non rischiare falla più lunga tanto abbiamo 5 minuti non c'è fretta un camion così è sempre bello vedere i text di chat vai ok aspetta fammi fare un attimo non ho ancora capito cos'è il boss boss doppio boss doppio dove va non lo vanno fuori ah non lo vanno a fare non è morto ok ah non provano a fare perché smonti continuo loro vabbè dopo due boss se stronti ce ne dà i uno doppio ce ne dà fitto cosa fa ti stava a sparare roba che però non ti ha preso mai nella vita che boss diventa buono dire easiest boss e quindi ora la luffy si muove ballo il tuo mondo non tu papa che c'è che c'è Inizio a motori, inizio a motori, inizio a motori Inizio a motori, inizio a motori Ora vi mostrerò il Robert Who Who e il Watt-Watt-Watt-Bit of Heroic Yippie-kai-yay Kabuki E' il Watt-Watt-Watt-Watt Non ho capito Perchè? Ok, ok Perchè un mondo